Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi ospite con noi l'assessore all'ambiente e al clima Raffaele Cattaneo. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno anche a tutti coloro che vedono questo interessantissimo speciale per il tema che adesso illustreremo. E lo speciale è appunto il progetto ADA 270 ovvero carotaggio dell'Adamello. Per capire bene di cosa stiamo parlando guardiamo questo video che vi farà immergere in qualcosa di davvero speciale. Ecco ragazzi, l'ultima carota, siamo arrivati a 224 metri. Un grande successo. La carotina è l'ultima di 30 centimetri, vedete proprio 30. Vedi i frammenti di roccia. Frammenti di roccia, tonalite, dice il nostro grande geologo Luca Albertelli. E sono emozionato. Ecco assessore, abbiamo visto questo video, lei era presente sul luogo e soprattutto oggi abbiamo spiegato perché questo carotaggio, perché questa iniziativa. Sì, ho avuto la fortuna l'ultimo giorno del carotaggio di essere lì a vedere direttamente quello che voi avete potuto intravedere grazie al video e credo che queste immagini siano evocative dalla straordinarietà di quello che è stato fatto. Intanto in un luogo unico, il ghiacciaio dell'Adamello è il più grande, il più profondo ghiacciaio italiano, uno dei più grandi d'Europa. A Piolino abbiamo voluto fare un progetto che la regione ha sostenuto fin dall'inizio, è una carota di ghiaccio che arrivasse fino al fondo del ghiacciaio, siamo arrivati molto vicini, una carota arrivata a meno 225 metri, con l'obiettivo di conoscere la storia climatica degli ultimi mille anni. E questo obiettivo di conoscenza serve poi alla regione per poter agire con le proprie politiche di contrasto al cambiamento climatico. Ma per farlo dobbiamo capire cosa dipende dalla mano dell'uomo e cosa invece è già accaduto in passato. Questo studio non è solo uno studio scientifico, ma uno studio che ha lo scopo di darci elementi conoscitivi per poter agire concretamente con le politiche regionali. Tante informazioni che ci aiutano a capire quali sono le spie che si accendono, ma anche un grande patrimonio di conoscenza che andando indietro nel passato per mille anni ci consentirà poi di fare un salto nel futuro. Questo è forse l'aspetto più interessante. Durante l'incontro di oggi è stato spiegato che questo pezzo di ghiaccio si trova a Milano? Questo pezzo di ghiaccio si trova a Milano in un laboratorio dell'Università Bicocca e adesso il ghiaccio si sta assestando, poi cominceranno gli studi. Ma un altro elemento importante di questo progetto, oltre alla carota che è stata estratta, è che lì è rimasto un buco profondo 225 metri in cui sono stati inseriti dei cavi in fibra ottica che permetteranno di monitorare le deformazioni del ghiacciaio e anche restituire informazioni sull'andamento delle temperature. Grazie dunque all'assessore Raffaele Cattaneo, ci diamo appuntamento più avanti per vedere come evolverà questo progetto. Certamente sì e io mi auguro che potranno esserci ulteriori fasi che la Regione sosterrà proprio per raccogliere il massimo del contributo, che tutto questo possa aiutarci a azioni che conservino anche per le generazioni future questa bellezza e un territorio incontaminato e dove è bello vivere.